Ghiaccioli e ammorbidente Tutti durissimi Come fai a metterti una maglietta congelata? Non me la metto Ragazzi seguite Arctic su Instagram Lo vedete senza maglietta Con i capezzeri tutti duri duri congelati Insieme all'occhio ovviamente Come? Ragazzi buon capodanno a tutti Questo video dovrà uscire oggi l'1 gennaio del 2017 Il primo video volevo farlo insieme a una persona importantissima Che l'ho diventata tipo Da pochissimi giorni Una nuova ship è nata Articuno Una fenice dei ghiacci Rinati dal dicembre congelante Fa freddo da voi Comunque oggi giocheremo alle Lucky Death Note E chi sarà il fortunato che riceverà il libro E soggiorcherà il potere Del dio della morte Ah ma aspetta io non ho segnato le mele Aspetta Segna segna Allora Due Anzi no Tre scatola di mele Il 40% di intelligenza Insomma ti viene anche tipo il 140% in più di artrite questa cosa Io sono in una palla gialla Ah si? Ah si? Ragazzi benvenuti nel battle royale del Death Note Uh astaglampo che non c'entra niente in questa stessa Aiuto! Comunque stai calmo! Allora devo prendere subito una mela E poi dobbiamo prendere il libro E guardate qua Il primo iscritto A cui andremo a dare il Death Note Ti prego dimmi che l'hai visto No Non l'ha visto Io non so neanche cosa L'ha visto! Ciao David Che colore sei? Il giallo Tieni ti do una cosa Molto illegale come cosa eh Io sono l'assistente Ti basti Oddio Aspetta Aspetta Ti do anche questo Un piccone guarda mi fa contatto Grazie Oh vediamo chi ha scritto Uh Samugae Non so se riesco a uccidere con le incudine Perché è veramente difficile però Ma tu devi scrivere anche come lo vuoi uccidere quel soggetto? Eh si Teoricamente Bellissimo Loro possono farlo Abbiamo trovato Samugae che è l'arancione Ragazzi non so se riuscirò a uccidere con le incudine Che in inglese è Anvil Proviamo a fargliere cadere dal tetto Tanto sono in Banish E lui non mi vede Ma è normale che io abbia della Bedrock? È normale Sì non lo so Diciamo che è normale se sei il mio assistente Sì Aspetta Aspetta No Voglio vedere chi Aspetta Lo sto seppellendo di Che colore è? Che colore è? Che colore è? L'arancione L'arancione Madonna è lontanissimo da me Aspetta Lo sto seppellendo quanti voli Vai 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 Sembra tipo Jingle Bells Vai Jingle Bells Ma L'hai cos'è? Ma perché? Devo ucciderlo Cosa? Ma io come fa? Io devo uccidere pure gli altri Che devo fare? Sì tu devi ucciderli in qualche modo Devi ucciderli Ok allora mi tocca prendere degli oggetti Perché non ho niente Ma è morto No Muori un attimo per favore Sì Sì L'ho cosa c'è Se lo aspetta Devo vedere Devo vedere Ma se l'uccidi senza risorgere niente Respauna però lui Dove è andato? È qua Cosa? Ma se l'uccidi senza risorgere La pallina al centro Respauna no? Sì sì Respauna Respauna E quindi adesso Sì Siamo gay morto Sì Ma mi stanno sperando Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Oh gli stanno distruggendo il nucleo Adesso ho rifatto il libro E lo andiamo a dare A qualcun altro Ok Io sto finendo di coprire La cosa bella è che Solo quelli che hanno Il death note in mano Mi possono vedere Capito? Io posso andare in vanish È bello sta cosa qui del death note Ha finito Quanto ci ha messo? Una nuvola di pipistrelli Sponati con le uova Lo circondò E venne circondato Da una sfera di sabbia Dove sprofondò E ciao ciao Tocaf Ah Tocaf deve morire Ok Non avevo capito Pensavo fosse tipo Una parola scritta a caso E soffocarlo Sì ma raga Ma avete rotto questa cosa Che bisogna soffocare tutti Oddio Va bene Ok Guarda Non se ne accorgerà mai Che ci sono io Che lo sto trollando Pieno di pipistrelli Mi è appena arrivato uno Con l'Ember Per l'è caduto sul blocco Ed è tipo morto Così Si è buttato appena No ma qui è troppo bello Tipo Il bello è che qua siamo in una cupola Quindi i pipistrelli E' un numero Trappolati per sempre E tutta la partita Lui ci avrà E' questi pipistrelli Che continuano a fare E sono fastidissimi Tra l'altro Fastidissimi signore Guarda l'italiano qua Fastidiosissimi Smettila Sono concentrato Guarda che ci vuol tanto Tanto impegno E non sono multitasking Che riesco a far spawnare I pipistrelli col tasto destro Mentre E adesso Dove è finito quel tipo? Aspetta Ma Ma chi decide? Ma ci sono i pipistrelli Che bloccano il Eh no non posso No Passa Passa Devi cederlo tu Devi cederlo tu Tocaf Devi cederli tocaf Ok mi devi dire la cupola Qual è però Bianca bianca Che cazzo sta succedendo Sulla mia isola? Che stai facendo? Ma che sta succedendo Nella mia isola? No No Sono stato tipo due ore A cercare la spada lezzina E quindi? Alla fine è caduta In un blocco No Cosa fa? One shot C'è 12.000 di danno Trovata Trovata Che è successo? Ok non perderla questa One shot Wow Arctic ora sarà Il braccio destro della morte Vai pure Ma li stai ammazzando tantissimo Vai e ammazzali C'hai tutte le enderfair del mondo Vai e ammazza tutti Questo qui intanto Aspetta ma Ma non devi ucciderlo Dobbiamo ancora uccidere Toghap Io vado a uccidere subito Toghap Perché già È nudo È nudo Ti dico solo che è nudo Allora non vale la pena Usare il potere assurdo No usalo ti prego Devi fare un overkill della madonna Boom No Ora sì Ok adesso distruggi Vai tranquillo Posso? Tipo così? Ah ti sei? Vai 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 tranquillo Lo faccio un attimino Pensare Io non posso interferire Devo distruggere di tutto? Sì ma i pipistrelli Ora non mi è uscita questa Dove essere Non può Se muori Se ti Ma Ho l'angallo Non puoi usare la scuola del lag Con la spadalizzina Ma da quanti viste lì c'ha quello? Allora se muori con questa Che è il frutto Degli dei È il frutto Di Oceanigama Ok me ne mangio Puoi morire C'è la faccia di L sopra Tu non la vedi Ma io c'ho la texture Ok ora sei un po' Immortale Vai distruggi tutto Il mio braccio della morte Vai Distruggi tutto Distruggi tutto Sì Non mi fa niente tanto Sto trasformando Di una scelta No veramente Non ti fa niente Sto giuro E anche questo libro Possiamo buttarlo Ok Dobbiamo andare al prossimo Comunque Chi ha scelto la tortura Del pipistrello È stato proprio cattivissimo Perché è insopportabile Tutto sto macello Vero È da fastidissimo Madonna mia Io ho bastato tantissimi suoni Questa è tranquilla Attica ne manca tre Vai Ok Bravissimo Grande È mota Ho trovato il distracto Che cos'è Che cos'è Che cos'è Che cos'è il distracto Sì Mi dimmi Che lo do eh Sì Vai Ok Ma questo succederlo Ha preso tutto poco Si è preso un bello spavento Madonna ma che succede Aspetta io ne tiro un altro No tu non vai su quel ponte Ti spengo io Wow Oh Owned Aspetta io ne tiro un addosso Oh sentito il rumore va da Oddio lo prego Wow Mi sono rimasto l'ultimo Mi è rimasto un pochettino Mi è rimasto l'ultimo Mi faccio un po' di spazio Mi faccio un po' di spazio Vediamo se Stai devastato Oddio ma sono morto Sto morendo Sto morendo Sto morendo la mela Sono morto Ma come sei morto Quell'album è devastato Che ho fatto tutta la vita E qui è troppo forte Mamma mia No c'è ancora Davide Ma dov'è È lì No Hai tanto l'unica mia Per arrivare da lui Aspetta dammi Aspetta fermo 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 Dammi una spadarezzina Dai tieni Butta la terra Questa lava non ti proteggerà Dal potere che abbiamo Povero Davide Sono morto Bastardo Adesso puoi scrivere tu Devi scrivere e filmarlo Ok Intanto mi sgranchisco le gambe Ragazzi per capodanno Ci siamo inventati Un qualcosa di molto più spettacolare Ma lo sai che si può ammazzare la gente Con queste cose Veramente no Allora Sì Io l'ho scritto Ma che cazzo vuole Tere vai sto bruciutando la tua morte amico Come fa ad essere ancora sopra Vai droppa il death note Droppa il death note sul ponte No Non lo prenderai L'ho preso Vediamo Ma non l'hai firmato It's time to play the game Tararang 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 Mi sento più un potere assurdo Oddio ragazzi Tra l'altro mi chiamo Lorenzo E quindi Questa Questa troll mi ricorda molto Tutti Gli onomastici Che ho passato Dell'11 agosto Che è il giorno di San Lorenzo Ed è bellissimo vedere Veramente le stelle cadenti Cadere così tante Così affiotti Sta pensando come ho fatto così male lui Un attimo Mi sorella entra in camera La sorella di Artic Magari deve morire anche lei O forse facciamo così Facciamo morire Artic E sulla sorella facciamo un pensierino Ok Dai facciamo così Facciamo così Facciamo che Alla sorella gli facciamo un bel pensierino Oddio Che sto succedendo Ma come so Mia sorella rutta Ha ruttato tua sorella Che hai ruttato mia Stavo giusto pensando che Magari Do il death note a tua sorella Su di lei ci faccio un pensierino Mentre te muori malissimo Ok Facciamo così No 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 Non come il video di tua mamma Ti prego Ok Aspetta Te la sto facendo Ti prego Non me la passare Sentimilo Ok ti sente Ti sente? Saluta che stai Stando O c'è tu un cazzo Ciao Fede Ciao Sai che mi parla sempre di te lui? Lui? Sì Dice che gli piace Ma chi? Rotello È incestuoso quel ragazzo È una bruttissima persona Ti ha colpito il mio rutto Stavo registrando Guarda È una delle cose più belle Che è successo in sta partita Ok No scherzo In realtà non l'ho sentito Perché c'è una pioggia di meteoriti Che sta accadendo sull'isola di Come si chiama? David Luke Te la faccio vedere Ma non c'è il video vero? Perché sono una grancetta di merda No non si vede No non si vede Non si vede Non si vede Vabbè no Rivaluto No aspetta guarda l'isola Fagliela vedere Guarda l'isola È rimasto lui? Posso fare una casa? Grazie Certo certo Lagga solo quando hai il pvp Quando devi costruirsi la casa È vero Sto tipo scrivendo il mio nome Sto tipo sistemando il mio nome Sto tipo sistemando il mio nome No È saltato in aria Bravo Adesso cadi Bello Mi piace Mi piace Veramente molto bello Scusate ma adesso Ok grazie È morto L'intelligenza calerà del 40% Dato che non sono più in posizione Ma Mi sono atrofizzate i piedi Quindi Ok raga Oh ma l'ha fatto anche centrato sto cosa Aspetta È bravissimo Ok È rimasto solo l'ultimo Ragazzi Se anche voi volete partecipare Vi ricordo Unitevi al canale Telegram Andate a visitare anche il canale di Artic Dove presto inizieremo qualche serie Lasciate un bel like Commentate Iscrivetevi ai nostri canali Ok io Ah ok Ma dove è troppo Ah oppure facciamo così Faccio cagare Oh se una volta partita non faccio schifo Non so io Ma quello sta Sta continuando A morire Ma non sta ancora rotto lo scherzo Ah 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 Oh Bella raga Bella Bella No che senso è genetile Alexis Oh è capodanno Guarda che figata Perfetto Ok Ottimo Ho fatto una skin bellissima Ma se viene a dire Di scritta femmine Wow Iscriviti al canale Grazie.